Confermata l'attenzione ai piccoli comuni, preziosa identità culturale del paese, il Consiglio regionale della Campania ha votato all'unanimità le proposte di legge a firma di Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, che prevedono l'inclusione del comune di Pertosa nella comunità montana Vallo di Diano e del comune di Alfano nella comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo. Una giornata storica per Pertosa e Alfano, ha dichiarato il consigliere Pellegrino, divenute simbolo dell'attenzione del Consiglio regionale ai piccoli comuni che rappresentano la spina dorsale del paese e la preziosa identità culturale della nostra regione, una decisione particolarmente attesa dalle due comunità, ha continuato Pellegrino. Si tratta di due provvedimenti che vanno nella direzione di valorizzare il territorio ottenuto conto che si tratta di comuni che sia socio-economicamente che geograficamente fanno parte di fatto delle rispettive comunità montane, ha concluso Pellegrino, che ha ringraziato tutti i gruppi consigliari per aver sostenuto e votato le sue proposte di legge. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Pertosa, Domenico Barba, e dal sindaco di Alfano, Ellen Anna Gerardo, presenti in aula al momento della votazione. L'iniziativa legislativa del consigliere Pellegrino ha dichiarato Domenico Barba, primo cittadino di Pertosa, a posto riparo a un atto scelerato e discriminatorio perpetrato nel 2008 a danno della mia comunità, un messaggio di speranza e vicinanza politica a tutti i piccoli comuni. Per il sindaco di Alfano, Elena Anna Gerardo, finalmente il comune siederà di nuovo a pieno titolo nel consesso montano che consentirà la partecipazione alla programmazione di interventi importanti per il territorio.